Capita che si lavori tanto sul territorio, capita anche che si raccontino storie, che ci si affianchi a delle battaglie, capita che un microfono diventi emblema di imparzialità e chiarezza ed allora può capitare anche di entrare nel cuore delle persone e diventare familiari, tanto da spingere anche un imprenditore a creare un gelato artigianale con il nome della nostra emittente, proprio in onore del nostro lavoro. Ed allora ecco che arriva il gelato Antenna Sud. Allora seguendo la vostra emittente in questa gelateria Tentazioni di Via Leopardi mi è venuta l'idea di creare un gusto proprio Antenna Sud, è una base di ricotta con cannella e purè di fragola, variegato col purè di fragola. Ma cosa ne pensano i salentini? Molti clienti hanno domandato perché questo gusto, perché ripeto noi seguiamo la vostra emittente, mi è balenata l'idea di fare questo gusto nuovo, soprattutto estivo. Grazie. 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 Grazie.